Minacce con una bottiglia di vetro, tensioni alla stazione, interviene la polizia dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti per la presenza di un soggetto molesto in piazzale Ricasoli, 31enne espulso da Lucca per tre anni. Dalla sicurezza ai migranti, le linee guida del nuovo prefetto di Lucca, Giuseppe Scaduto, ha fissato le prime priorità nella presentazione ufficiale alla stampa. A Porcari si piantano 32 nuovi alberi grazie al progetto Pianeta Terra, saranno messe a dimora in sei diverse aree del paese, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca finanzierà anche la manutenzione. Il calcio dal Brindisi in Coppa alla sfida di Sassari dopo aver superato il primo turno di Coppa Italia grazie al pirotecnico 4-3 di Arezzo, la lucchese prepara con Puntiglio il big match di domenica sul campo della capolista Torres. Luca Artino è sesto al rally di Pistoia, il bravo pilota di Lamporecchio centra un bel piazzamento al volante della Skoda Fabia a rally 2 e vince il bresciano Andrea Mabellini. Ben trovati con l'informazione del nostro telegiornale, l'edizione dedicata a Lucca, la Valle del Serchio, che apriamo in primo piano come avete visto e sentito anche dai nostri titoli, con la cronaca, in particolare con l'aggressione avvenuta in Piazzale Ricasoli alla stazione di Lucca, vittima un addetto alla biglietteria, un episodio che ha creato tensioni e per il quale è dovuta intervenire la polizia. Sentite. Da in escandescenza alla stazione, armato di una bottiglia di vetro, minaccia l'addetto alla biglietteria dopo aver infranto con un pugno la vetrata dell'ufficio. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti di sera in Piazzale Ricasoli a Lucca, dove è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma, dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti che segnalavano la presenza di un soggetto ubriaco e molesto. Gli agenti hanno fermato un uomo di 31 anni, italiano, residente fuori provincia, in stato di ebrezza, che per la gravità dei fatti è stato espulso con foglio di via obbligatorio del questore dal comune di Lucca per tre anni. Il 31enne è stato anche denunciato per danneggiamento e minacce aggravate, oltre che per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per ubriachezza molesta. Ancora la cronaca, un giovane di 35 anni di Barga è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lucca, dopo un incidente sarebbe caduto da solo con il monopattino in piazza Aldomoro a Capannori. Il giovane ha riportato un trauma cranico importante ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Lucca, dopodiché è stato condotto a Pisa in ambulanza con l'anestesista per una valutazione neurochirurgica. Sono intervenuti sul posto l'automedica di Lucca, l'ambulanza della misericordia di Capannori e naturalmente le forze dell'ordine. Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma poi si è ritenuto più opportuno accompagnare il ragazzo in prima battuta all'ospedale di Lucca. Ancora la cronaca che però adesso ci porta a Castelnuovo di Garfagnana, dove c'è stato un incidente per un 72enne portato in salvo dalla squadra del distaccamento di Castelnuovo e dal personale SAF della centrale di Lucca intervenuti all'1.30 circa di notte a Metatelli, nel comune di Coreglia Antelminelli. L'anziano era seduto su una panchina ma il terreno è franato e l'uomo è caduto in una scarpata facendo un volo di 80 metri. È stato trasportato in ospedale in codice giallo e dunque non è per fortuna in pericolo di vita. Abbiamo parlato in apertura di sicurezza e proprio la sicurezza è tra le priorità del nuovo prefetto che si è insediato a Lucca. Oggi la presentazione ufficiale alla stampa per Giuseppa Scaduto. Ce ne parla Virginia Torriani. A pochi giorni dal suo insediamento il nuovo prefetto di Lucca, Giuseppa Scaduto, si presenta ufficialmente alla città. L'incontro con la stampa nel proprio ufficio è stata occasione per riferire il primo impatto con il territorio e le priorità in agenda, ma anche per raccontarsi in prima persona dagli incarichi in Sicilia e in Lombardia fino alla passione per il giornalismo. Quella a Lucca è la prima esperienza in Toscana del prefetto. La prima impressione è stupenda, quindi sono assolutamente ancora più incentivata a fare del mio meglio per integrarmi in questa comunità istituzionale e sociale. Tra pochi giorni l'impegno per il piano sicurezza di Lucca Comics & Games nell'edizione che si preannuncia come la più grande di sempre. E devo dire che per me iniziare con un evento così importante è sicuramente un banco di prova, ma sarà anche la conferma che questo è un territorio dove i problemi si affrontano in maniera sinergica, collettiva, così come ho avuto modo di riscontrare dai primi appuntamenti istituzionali che ho avuto, con le forze di polizia, il presidente della provincia, il sindaco, e sono sicura che la macchina già ben collaudata garantirà quest'anno un sereno svolgimento di una manifestazione così importante. Sul fronte migranti il prefetto Scaduto rassicura il fenomeno è già sotto controllo, chiarisce, e sottolinea di voler portare avanti l'interlocuzione con gli amministratori locali per garantire la convivenza con i territori e una dignitosa accoglienza a quanti arrivano. Anche qui la macchina è collaudata, ovviamente non sempre è facile di immediato trovare i posti in accoglienza, però la prefettura, sempre in sinergia con le altre istituzioni, è riuscita finora a far fronte e sono sicura che continueremo in questa direzione. Si rinsalda l'intesa politica tra i due sindaci di Lucca e Viareggio, Pardini e Del Ghingaro, ed è emerso in un confronto aperto a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, durante il quale i due sindaci hanno annunciato importanti appuntamenti per il territorio provinciale. Pardini e Del Ghingaro, l'intesa politica continua e così Lucca e Viareggio superano i campanilismi di ieri e rafforzano l'unità nel segno della cultura, tanto che la città del Carnevale è già pronta a ricambiare il favore. Dopo la sfilata delle maschere sulle mura per celebrare l'arrivo della manifestazione viareggina, adesso saranno i comics a debuttare in passeggiata nel weekend del 28 e 29 ottobre, aprendo la strada al grande evento lucchese. È quanto emerso dal dibattito andato in scena nella sede di Confcommercio a Palazzo Sani, nel confronto tra i due sindaci promosso dal think tank dei riformisti di Francesco Colucci, aperto dal presidente Rodolfo Pasquini. Tra i punti di incontro, quello sulla candidatura a Capitale della Cultura. Svanito il sogno di Viareggio, nel 2026 ci proverà Lucca, ma con un progetto che unisce tutto il territorio provinciale, terreno fertile per le critiche all'ex amministrazione lucchese. Un confronto in cui, in sostanza, i due primi cittadini hanno voluto far passare un messaggio preciso, che quell'intesa tracciata nel rascio finale dell'ultima campagna elettorale lucchese, con la clamorosa dichiarazione di voto del sindaco di Viareggio a favore di Pardini, è solida, ma in comune tra i due c'è di più. Il futuro politico, per esempio. La corsa parallela a Pardini del Ghingaro, per provincia e regione, è già partita da Palazzo Sani, in una sala piena di persone. Cambiamo di nuovo argomento, ci occupiamo della visita pastorale di Monsignor Paolo Giulietti per tre anni in viaggio tra le parrocchie della Diocesi. Ce ne parla di nuovo Virginia Torriani. Prendere al via venerdì 6 ottobre la visita pastorale dell'Arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti. Il viaggio, che durerà tre anni, toccherà a tutte le comunità parrocchiali della Diocesi. Prima tappa la città di Lucca, poi sarà la volta di Viareggio e, infine, da febbraio 2024, la visita si sposterà in Garfagnana e in Valle del Serchio. Il percorso punta non solo alla conoscenza delle realtà del territorio, ma intende promuovere progetti e cambiamenti difficilmente attuabili, senza la chiarezza di un quadro di insieme. Per questo sarà articolato in quattro momenti l'ascolto, l'incontro, la fase delle proposte progettuali e la successiva verifica della loro attuazione. È un desiderio che avevo da tempo di poter fare questo incontro col territorio di Ucesano, poi c'è stata la pandemia che ha rallentato un po' tutto, adesso si comincia ed è un'occasione anche un po' storica perché è da tanti anni che non viene fatta. È un'opportunità sicuramente di incontro, di conoscenza, di legami fraterni, ma anche di progettazione per il futuro di questa Chiesa che ha bisogno di guardare avanti, come sta facendo anche la Chiesa Universale con il Sido, dove anche noi nel nostro piccolo immaginiamo un futuro più missionario e diverso per le nostre parrocchie. Il percorso lascerà in diocesi alcune opere artistiche, la lampada commissionata con l'intenzione di rappresentare la grazia della visita pastorale, per meglio significare il passaggio del Vescovo nelle chiese, nella città e nelle comunità parrocchiali dell'Arcidiocesi e dei nuovi arredi liturgici nella cappella del Palazzo Arcivescovide, oggetto di un concorso per giovani artisti indetto con la collaborazione dell'Unione Cattolica Artisti Italiani. Adesso voltiamo decisamente pagina perché ci occupiamo di sostenibilità con l'iniziativa che prenderà il via a breve nel territorio comunale di Porcari, dove si piantano 32 nuovi alberi grazie al progetto Pianeta Terra Festival ai nastri di partenza. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si occuperà anche della manutenzione. 32 nuovi alberi cresceranno sul territorio comunale di Porcari nell'ambito del progetto Pianeta Terra, alberi per il futuro, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Dopo i sopralluoghi tecnici per individuare gli spazi urbani più idonei e attrezzati ad accogliere le nuove piante, è arrivato il via libera dell'ente di piazza Felice Orsi per l'effettiva messa a dimora in sei diverse aree del paese. 8 alberi verranno piantati nel giardino della scuola dell'infanzia di via Giannini e 5 in quella di via Boccaione. In località Poggetto, nel parco intitolato alla famiglia Malanca, cresceranno due alberi, 6 nel parco La Guerrina e infine 11 arbusti porteranno aree ed ombra allo sgambatoio di via Cavanis. Gli alberi che saranno piantati nei prossimi mesi avranno già raggiunto una buona altezza e verranno posizionati in prossimità di fontane pubbliche. Allora, questa sinergia con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è veramente una bella collaborazione. Ringrazio la Fondazione e nella persona del suo presidente, Marcello Vertocchini, la possibilità di piantumare alberi. Alberi nei nostri comuni, alberi negli spazi pubblici, alberi nelle scuole. Ora noi tutti sappiamo che valore abbia l'ambiente, la qualità dell'aria e tutto ciò che ci circonda. sappiamo anche quanto sia difficile modificare le nostre abitudini per un ambiente migliore. Ecco invece, piantare alberi è un gesto semplice, un gesto che ci trova tutti d'accordo e fa bene all'ambiente. Quindi è un progetto molto semplice ma molto geniale perché darà una mano fattiva e sostanziosa alla nostra qualità degli aria nei prossimi anni. Rimaniamo in tema perché, come abbiamo detto, ai nastri di partenza la manifestazione, l'iniziativa Pianeta Terra Festival, c'è attesa per la giornata di apertura con lo storico e divulgatore Alessandro Barbero. Facciamo il punto. Prende il via giovedì 5 ottobre alle 17.30 nella chiesa di San Francesco la seconda edizione di Pianeta Terra Festival, la manifestazione organizzata dai editori La Terza e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dedicata ad alcuni dei temi più attuali della contemporaneità, la sostenibilità ambientale, il contrasto al cambiamento climatico, le prospettive reali e scientificamente valutabili per il futuro dell'umanità. Subito dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro inaugurale della rassegna, alle 19 nella medesima sala è atteso l'assolo dello storico e divulgatore Alessandro Barbero che ha deciso di dedicare il suo intervento alla figura di San Francesco, un modo per celebrare anche all'interno della manifestazione i dieci anni della riapertura del complesso dopo il grande restauro realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Vista la grande attesa per l'ospite, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming in altre quattro location che ospiteranno gli oltre 80 appuntamenti in calendario, la Cappella Guinigi, l'auditorium del complesso di San Micheletto, la Sala Tubino di Palazzo Ducale e la Sala Convegni di Palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord. E adesso ci spostiamo in Valle del Serchio. L'arte internazionale sbarca a Gallicano nell'ambito di un progetto più complessivo di riqualificazione dei centri storici. Proseguono in Valle del Serchio le realizzazioni artistiche di riqualificazione dei centri storici per mezzo di artisti urbani che grazie alla loro bravura danno colore, nuova vita a palazzi e monumenti. Questo progetto vuole portare l'arte urbana in quattro comuni, Fosciando, La Castiglione di Garfagnana, Gallicano e Pieve Fosciana, con un totale di sei murales e oltre ad una mostra realizzata a barca. Il progetto, curato da Gian Guido Grassi, si è aperto in estate a Castiglione e Riana ed in questi giorni sbarca a Gallicano, dove si trova l'artista Erika Ilcane che sta lavorando su uno dei monumenti storici, seppur del secolo scorso, ovvero l'ex cartiera, ora Sala Guazzelli. Sì, la sala intitolata al nostro maresciallo Guazzelli è un punto di riferimento per tutta la comunità. Avrà una veste nuova perché in questo momento stiamo realizzando una bellissima opera finanziata dalla Regione Toscana e abbiamo l'onore di avere qua a Gallicano un grande artista, Erika Ilcane, che sta curando appunto questa opera. Per riguardo al progetto di arte urbana in Valle del Cerchio, in questo momento è in corso la realizzazione di tre opere, di cui una appunto a Gallicano. Zedwan a Cesarana, Bastardiglia a Lupinaia e qui a Gallicano Erika Ilcane. Sono artisti che lavorano su, che cercano di valorizzare l'identità della Garfagnana con le varie specificità di questa meravigliosa valle. Erika Ilcane sta facendo un dipinto dedicato all'acqua, alla turrite di Gallicano. L'artista si è ispirato per questa opera al lavoro di Dante Alighieri, La vita nuova. Una particolarità su Erika Ilcane è il fatto che lavora a volto coperto, come altri artisti legati al mondo dei graffiti urbani. Si chiude così l'edizione dedicata a Lucca e alla Valle del Cerchio. Adesso una pausa pubblicitaria, poi l'informazione prosegue come sempre con la pagina sportiva. A tra poco. Grazie. Grazie.